Sì? Sì? Buongiorno, signora Valberghe. Signorina. Mi scusi, vuole che io... Molto bene. A proposito della Valberghe, con lei non è proprio facile facile. Le sue sigarette sono light. Ne vuole una? Le dispiacerebbe spiegarmi che cosa stiamo facendo? Sono un naso? Sa cosa significa? Naso? Sì, lo so cosa significa. La cameriera indossa Fiodor. Scusi, ma lei conosce a memoria la ricetta di tutti i profumi? L'ho creato io. Mi aiuti a cambiare le lenzuola? Madame Valberghe, non sono qui per cambiarle le lenzuola. Ma... Non mi aiuta a portare su le valigie? Non deve fumare, mi porti le mie cose. Ma almeno dire un grazie. Buona serata. Che cosa le ricorda? Non lo so. Abbia un po' di fiducia in sé. La cameriera porta ubrio. Un piccolo tocco di agrumi di bassa qualità. Una noance pepata. Mediocre. Mia moglie portava ubrio. Mia moglie portava ubrio. Mia moglie portava ubrio. autonomous non maGI. Mia moglie portava bambino di biblioteca.